È in arrivo per 5.700 famiglie residenti a Prato la lettera dell'Istat per partecipare al censimento permanente della popolazione delle abitazioni. A partire dal lunedì 7 ottobre fino al prossimo 23 dicembre i cittadini selezionati a Campione saranno chiamati a partecipare alla rilevazione obbligatoria. Il censimento riguarderà 2.530 comuni italiani per un totale di un milione di famiglie. I nuclei scelti riceveranno a casa per posta una lettera e dovranno compilare il questionario online accedendo con le credenziali contenute all'interno della busta. Per chi avrà difficoltà però dal 7 ottobre fino al 9 dicembre sarà possibile farsi affiancare dal personale del centro comunale di rilevazione situato in piazza del Pesce a Prato che fornirà supporto telefonico oppure aiuterà a compilare il modello direttamente di persona ad una delle postazioni internet dell'ufficio. Il centro comunale di rilevazione sarà aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 mentre nel pomeriggio di giovedì dalle 15 alle 18 ci sarà anche un interprete di lingua cinese. Le innovazioni di quest'anno c'è anche l'introduzione delle mediazioni culturali quindi mediatori dell'utilizzo anche di alcuni canali per comunicare con le comunità straniere e quelle che poi sono tutte le informazioni che sono poi utili. Insomma il comune mette a disposizione della città uno strumento nuovo, uno strumento importante perché poi appunto il censimento è una delle fasi importanti di governo delle città. L'anno scorso si sono recati qui 200 famiglie di persona e altrettante si sono rivolte a noi attraverso la linea telefonica e tutti i contact center che mettiamo a disposizione.